oddio che è che combinate ha ancora state a caramico ti posso allora posso raccontare una storia allora racconto una storia il mercure ci ha detto che non aveva il collegamento cablato allora abbiamo provato a usare il wifi il wifi non va oltre i 3 megabit al secondo allora per fortuna poi ho incontrato un tecnico del mercure che mi ha detto che non era vero che il collegamento cablato non c'è e infatti adesso abbiamo un collegamento cablato da 70 megabit al secondo io l'ho chiesto al tecnico mi sono messo lì ci avevo uno switch salve glielo puoi chiedere anche tu se vuoi adesso noi stiamo cercando di intestare i cavi di collegamento perché per il fronte anteriore facciamo una molti amplificazione passiva quindi il finale a sette canali ne verranno usati solo sei due per left due per il centrale e quindi stiamo facendo i cavi perché il cavo audio quest è fatto bassi e alti quindi per chi ci vede quindi non io che ho bisogno degli occhiali qui c'è scritto piccolo piccolo basse treble ok e quindi si accoppiano insieme poi si utilizzano va bene torneremo più tardi il disgraziato va beh ragazzi buon proseguimento a dopo ma sta messo sta messo a spella i cavi che fine gloriosa mi tagliore sono diventato l'umpa l'umpa di del buon balletta hanno ragionato questi diffusori? sì